Ciao a tutti è arrivata oggi la porco brado box facciamo l'unboxing vediamo un po' sigilo di garanzia partito ieri arrivato oggi velocissimo con Bartolini questa è la protezione classica con quattro panini e salse ecco la carta per i panini i panini regolosamente di grano alto livello quattro panini le carni eccole qui per ogni panini e le salse cava nero salsa gialapegno seneva e miele e salsa con cipolla ottimo da gusto qui pronto il porco brado da salsare soltanto a nostro piacimento